Un'altra occasione di mettere Siracusa al centro dell'attenzione anche con questa bellissima occasione, le Olimpiadi dell'Astronomia che porteranno diverse centinaia di ragazzi nella nostra città per ospitare un evento di grande qualità che coinvolge innanzitutto il liceo Corpino ma anche diversi altri licei d'Italia. Chiaramente l'amministrazione comunale è stata immediatamente recettiva e ha desiderato patrocinare e mettere a disposizione le proprie risorse per fare in modo che sia un evento seguito e di grande successo. Quest'anno le 14esime edizioni delle Olimpiadi di Astronomia rappresenteranno un unicum rispetto alle edizioni che si sono svolte negli anni precedenti poiché si è voluto creare proprio un collegamento tra le Olimpiadi e quindi l'evento in sé scientifico di valenza scientifica e la valorizzazione del territorio. Questo nasce dall'esigenza che, dato che Siracusa è stata scelta come sede di queste Olimpiadi, Siracusa è anche una città che ha una tradizione scientifica importantissima, dato in Natale ad Archimede che il siracusano probabilmente, anzi sicuramente più famoso in tutto il mondo e quindi si è voluto sfruttare questo binomio tra risorse naturali, paesaggistiche, culturali e naturalmente anche scientifiche e il territorio di Siracusa.